Beyond Growth ha avuto una partecipazione incredibile, superiore a ogni aspettativa, almeno ogni mia aspettativa. È importantissimo che si parli di crescita in maniera sostenibile, in maniera alternativa al concetto di crescita che abbiamo avuto finora. Nessuno è contro la crescita, ma noi dobbiamo essere consci che il nostro pianeta ha risorse limitate. Allora immaginare che la crescita sia soltanto l'aumento del PIL, l'aumento della produzione, eccetera. Quando questo aumento corrisponde alla distruzione delle risorse del pianeta sarebbe una follia, sarebbe una scelta suicida. Però è quello che finora è successo. Si immagina che si possa sempre più crescere. Se alla fine dell'anno c'è un segno più sul PIL di un paese o dell'intera comunità mondiale, allora si è contenti. Se c'è un segno meno si è scontenti. No, non è così. Il PIL non indica, come disse Kennedy una volta, la felicità, ma soprattutto non indica lo stato di conservazione del pianeta e delle risorse. Nel mio tavolo, nel mio panel in particolare, abbiamo parlato di oceani, di mare. Noi giustamente stiamo molto attenti alla riduzione della CO2, delle emissioni, quindi a emettere meno CO2. Non pensiamo mai che trattare bene il male significherebbe avere dei magazzini di stoccaggio, diciamo così, della CO2 importantissimi. Se si smettesse oggi con la caccia alle balene, ci fosse un ripopolamento delle balene nel mondo. Le balene sono un eccezionale strumento contro la CO2, oltre ad essere dei bellissimi animali. Dovremmo stare molto più attenti, insomma, a valorizzare le nostre risorse. Dovremmo cambiare rotta. Ci sono stati interventi particolarmente interessanti, c'è stata una grande partecipazione sia in sala, in tutte le sale erano piene di giovani e non soltanto venuti da tutta Europa ad ascoltare, ma anche da casa. Sono state migliaia e migliaia di interazioni, di domande, eccetera. Sono orgoglioso di essere l'unico italiano, l'unico deputato italiano, ad aver preso parte a questa iniziativa, che si ripeterà nei prossimi anni. Poi c'era il commissario Gentiloni, che non è un deputato, ma che rappresenta autorevolmente l'Italia. Spero soltanto che non restino soltanto parole e belle iniziative, bei progetti, ma che tutti gli Stati membri, e in particolare l'Unione Europea, capisca che è ora o mai più.